Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, io e il mio grattone, vi salutiamo. Sono stata da risparmio casa e vi faccio vedere che cosa ho comprato, era un bel po' che non ci andavo. 2,88€ ho preso i Tena di Screte, sapete che io amo questi qui e anche questi qua, infatti li ho presi due pacchi. Forse magari in giro li posso trovare a meno, però mi sembrava un prezzo abbastanza decente. Una volta li trovavo anche 1,75€, 1,80€, ecco ormai ho aumentato tutto e quindi... Ho preso l'emulsi un mangia polvere profumato, magnolia e gersomino, la polvere non si deposita per giorni. So che questo anche Caterina ne parlava bene anche per un discorso di profumazione, speriamo sia vero. Insomma 2,99€, questo è un po' caretto devo dire, però è un bussolotto da 300ml. Ho preso delle mascherine a 99 centesimi, energizzante con cacao e ginseng, questo qui non l'ho mai visto, sto marchio, Celia, prodotto italiano, speriamo sia buono, l'incie fatto bene, 100% energia rinnovabile. L'ho presa nutriente, pelli secche al miele, un'altra con antiimperfezioni per pelle spente e miste, acido salicilico, acacia e cocco. E carbone, pino marittimo. Poi ho preso questi profumini qua da Armado e fiori d'arancio della Relevi, che c'è anche da Tigotà. Questi li ho pagati... Vediamo un po'... Dove saranno mai? 1,39€ di 4. Poi ho preso, ragazzi, anche questi della linea Light Sensitive, lunghi, questi sono proprio salvaslip sottili, mentre quelli sono un po' più pesantini. Anche questi, se non sbaglio, no, questi 1,99€ infatti. Dispositivo medico, io mi sono dimenticata di dare la testa sanitaria, la commessa non me l'ha detto, non me l'ha chiesto, voi ricordate, ve lo dico sempre, poi sono la prima che solo dimentica, però c'è proprio scritto dispositivo medico, anche nello scontrino, ma se non date la testa sanitaria non si può scaricare. L'Eisterine era in offerta 2,99€, un buonissimo prezzo perché in giro era più di 4€. A 99 centesimi, l'unico, è l'asciugamano monouso, 8 pezzi, formato XL, li ho presi, li ho voluti provare, anche perché magari se vado via e ho il ciclo sono anche comodi per quel discorso lì. Poi tiriamo sotto il bussone, 99 centesimi ho preso i panni cattura polvere, questi qui hanno la profumazione sandalo e gersomino, sapete che mi piacciono, e anche lavanda e camomilla. Poi ho comprato a 1,99€ il tonico viso, estratto di camomilla, sempre il marchio Celia, l'ince è fatto bene, tranne per, aveva un sacco di prodottini, tranne il latte detergente, il resto era fatto bene. 1,99€ e 400ml, non mi sembra male, e da fare un regalo, acqua micellare, estratto di melograno, tonificante, sempre 1,99€. E' un made in Italy, non conoscevo per niente la cosa. Poi di risparmio casa ho preso la carta igienica, quella umida, 99 centesimi, questo qui dentro ce ne sono 25, e invece quello da 50, 1,39€, sapete che è buono, mi piace, 99 centesimi, nastro adesivo, ne ho presi due. Poi il pino silvestre, questo qui ha le gocce di Argan, vediamo un po', avevo 5€ di buono sconto, 99 centesimi, poi la busta del Borotalco, 79 centesimi, della Frencia Azzurra, eccola qui. Ragazzi, una profumazione spettacolare. Due cancelline, che le ho pagate, 99 centesimi. E poi ragazzi, ho comprato dei canovacci, allora, vediamo un po'. Ho preso, canovaccio cotone, 99 centesimi, due canovacci, 2,99€, e un altro a 99 centesimi. Allora, questo è a 99 centesimi, marino. Questo è il canovaccio a 99 centesimi, in casa servono sempre, questi sono quelli da due, molto estivi, sono uguali, quei pescioloni, ma mi piacevano anche i colori. Poi ragazzi, sono stata al DM, ho preso tre stupilate in croce, ho preso queste due barrette di cioccolato, una al caffè, una al lampone. Poi ho preso questo pacco, 2,49€, questo pacco qui, per asciugare i piatti, maxi panni multiuso, dentro ce ne sono quattro pezzi, dice che sono maxi, voi li proverò comunque, eccoli qua da mettere sul secchiaio. Poi ho preso a 1€, questa mascherina qui, 1,49€, che era una novità, 99 centesimi in bagno schiuma al mango e frutto della passione, e per finire il pacchetto di carta igienica umidificata, questi sapete che io le uso un sacco, quindi è buono. Le ho pagate 1,09€. Ah, ragazzi, sì, poi ho preso delle robe per mia mamma, ma non sto a farvele vedere perché le ho già impacchettate. Ho preso questa crema qui, ah, vediamo, dov'è? Balea Corpo Summer, 2,49€. Mi sembrava costasse meno, comunque è una miseria. È fatta bene linci con pantenole, estratto di monoi, idratante, eccola qua. Linci è fatto bene, quindi comunque 200ml per il prezzo è un ottimo affare. Vado a prendervi altre cosine e vi faccio vedere. Allora, vi segnalo da Decathlon questo qui, ragazze, sembra una coperta in pile, in verità è un asciugamano di quelli maxi. C'era L o XL. Io ho preso la linea XL, che quindi è bello grande per tutto il corpo. La linea XL era sui 14€, ma di questo colore era 10€. Ma del colore me ne fregava poco. Hanno deciso di battere adesso, vabbè. Sono stata da Action, da Action ho preso i croccantini che ho. i croccantini che sono ovunque, perché ho un gattino quando parcheggio. Adesso tirerò sui croccantini per una vita. Queste salviette umidificate. Vediamo se trovo anche lo scontrino. Allora, i croccantini sono... Perché batti adesso? 1,79€. Poi... Scusate, le salviette per i pavimenti 99 centesimi. 99 centesimi questi tovaglioli. 1,99€. Questo qui di solito li prendo da risparmio a casa, ma me l'ero dimenticata, ma è con due ricariche. Le solite mie pile, perché costano 1,99€. 99 centesimi il purpurì. Qualche altro casino. Poi ho preso il profumatore per bucato, 1,97€ in gocce al miele. Sapone mani, 1,99€ l'olio di oliva in Marsiglia. 79 centesimi il tela dell'Arizona. 2,95€. Questa candela qua, guardate che carina. E per finire ho preso... Anzi, 89 centesimi il tovagliolio, quindi una miseria. Ho preso profumo per l'armadio, 56 centesimi al gusto Orchidea Bian Wild Orchid. E questi qui, che sono i cioccolatini, quelli svizzeri che compro spesso. 1,19€. Basta ragazzi, questo è quanto che vado a sistemare le cose. Un po' non svuota la spesa casino, però volevo segnalarvi alcune chicchette. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.